Tra le formazioni sicuramente meglio attrezzate del prossimo campionato di eccellenza ormai alle porte la Vastese per blasone ma anche per effettiva forza dell'organico e anche del mister che noi conosciamo da anni si accinge a partire tra le favorite. Ovviamente Gianluca Colavitto tenderà un po' a sminuire ma quello che dicono gli addetti lavori è questo, la Vastese meglio è una delle favorite alla vittoria finale. Mi hai detto bene, questo lo dite voi, sarà sempre il campo comunque a dire l'ultima parola. Diciamo che ci sono le condizioni per fare un campionato buono e comunque è un anno se così possiamo dire di passaggio questo dove una società nuova si è affacciata, si sta creando entusiasmo e mi auguro di dare qualche soddisfazione a questo pubblico che comunque è un pubblico affettuoso che vuole bene a questi colori. Ti rimetti in gioco dopo ottime stagioni, da qualche anno però sei fermo ma i dirigenti, gli addetti ai lavori ti ricordano sempre per la tua serietà. Io ti ringrazio, questa è un'opportunità per me, è un'opportunità importante e ci sto mettendo tanta voglia e tanta passione. I ragazzi mi stanno seguendo e ti ripeto ci sono le condizioni per poter fare bene. Avete già disputato qualche partita, Michaevo, le Coppa Italia, quindi ti sarai già reso conto su che cosa hai per le mani e che cosa c'è da migliorare per questa squadra? Queste sono cose che la società comunque sa bene, il direttore sta operando bene. Insomma dobbiamo puntellare in qualche ruolo ma comunque sono cose che la società conosce bene quindi siccome sono persone serie penso che comunque non avremo problemi a mettere il tassello giusto al punto giusto. Per chiudere abbiamo detto, ci siamo sbilanciati sul nominare la vastese tra le favorite ma secondo te quali saranno le altre pretendenti, quelle che partono in prima fascia? Hai detto bene la prima fascia perché la vastese sicuramente viene dopo. Io penso che il Pineto, il Paterno, l'Angolana, il Francavilla, il San Salvo sono squadre che sono partite in anticipo con organici importanti che sicuramente avranno un ruolo importante in questo campionato. Franco Polami da quest'anno ha assunto la massima carica societaria di una società gloriosa come la vastese con un esperimento, il massimo coinvolgimento popolare, i tifosi sono stati coinvolti anche recentemente con un regalo di alcuni abbonamenti ai più bisognosi ma in ogni caso l'ambiente si è ravvivato con il tuo avvento, sbaglio? Sì, sicuramente c'è stato un po' di movimento in più nel fondo degli altri anni. Per me siamo molto contenti di questo passaggio, questo primo passaggio ma c'è molto da lavorare perché ripeto, vasto e vasto, è una città dove è sempre fatto di un buon livello. Quest'anno ci stiamo lavorando per portarlo in alto ma con grossi impegni. La scelta del mister come avete deciso di affidarla a un bravo allenatore come Gianluca Colavitto che era però fermo da qualche anno? La scelta del mister è stata un po' di telefonati, siamo un po' informati. Noi volevamo un cambiamento generale di tutto. Mi dispiace che ci sono degli allenatori a vasto, le potevamo anche chiamare, sentire. Soltanti erano lasciati di tutta la società e purtroppo erano così. Il mister, ripeto, abbiamo dei contatti, abbiamo incontrato due o tre volte e a pelle ci è superpiaciuto e abbiamo chiuso con due ore, tre ore di parlata. Adesso il compito principale dell'allenatore è quello di assemblare i numerosi arrivati perché voi avete operato veramente un mercato quantitativamente e qualitativamente elevato. Ma mi sembra di aver capito che forse le sorprese non sono ancora terminate. Sì, siamo partiti da sotto zero perché molti giocatori con le gestioni di altri anni non volevano manco tornare a vasto per motivi che non vogliamo qui elencare. Sono stati bravi a farli riportare, a farli capire che c'era una città nuova, c'era un progetto nuovo. Abbiamo chiamato, penso, i miei giocatori in giro, anche se, ripeto, ci sono altri due o tre tasselli che mancheranno all'appello, però penso che arriveranno, ma non voglio promettere niente ai tifosi. Quest'anno le squadre del Vastese, Cupello, San Salvo, voi vi siete attrezzate al meglio quindi farete sicuramente una bella figura, ma in realtà le favorite principali alla vittoria finale quali sono? Penso il Pineto che già domenica andremo a affrontarle, vediamo di cosa parliamo. Dopo c'è il Francavilla, c'è il San Salvo che l'anno scorso ha fatto un buon campionato, ha inserito dei tasselli giusti al punto giusto, ci sono tre o quattro squadre, ci saremo anche noi perché non c'era nascondere che siamo partiti per fare un ottimo campionato e dopo, ripeto, il Pineto viene mangiando durante il campionato, capiamo di che cosa siamo fatti. Però, ripeto, ci sono quattro o cinque squadre dove ce la possiamo giocare e quest'anno sarà un bel campionato, livellato perché molte delle società si sono attrezzate in tutto e sono contento di affrontare queste squadre nel mio modo possibile. Per chiudere vogliamo anche accennare a questa sorta di collaborazione forse indiretta con il Vasto Marina che, diciamo, negli ultimi anni c'era stato un po' di conflittualità ma tu mi sembra già facevi parte con Pino Travalini in passato quindi un tuo amico, vi siete messi d'accordo per gestire al meglio il calcio vastese? Sì, Pino, ci conosciamo da trent'anni, ho giocato militare al Vasto Marina in promozione e pregatoria per più di vent'anni e abbiamo fatto questo accordo e che cosa provvede? Provede che l'Unione fa la forza, cioè spiegare i soldi per il Vasto Marina per una realtà che penso che è una bella realtà dopo che trent'anni che Pino fa il pallone da solo e allora è giusto che bisogna unire le forze, stare con noi valutare i giovani, farli crescere in una bella promozione e perché no portarli sul, perché noi la nostra gestione vorremmo dei giocatori di Vasto che andiamo a abbassare il tasso economico. Pietro Scafetta è il neo vicepresidente della Vastese c'è un impegno non indifferente essere uno dei dirigenti delle squadre più blasonate abruzzesi che punta a tornare ad essere blasonata, vero? Sì, sì, sicuramente cercheremo di fare il nostro meglio e di riportare la Vastese nei parcorscenici che contano stiamo cercando di allestire una squadra molto competitiva e cercheremo di fare il nostro meglio per cercare di arrivare a un campionato a fine di un campionato in maniera gloriosa. Come ha risposto la città a questa nuova avventura societaria? Ci sono altri dirigenti che si sono entusiasmati e si stanno avvicinando concretamente e non solo a chiacchiere? No, noi attualmente siamo in sei siamo io, Franco Bolami e poi ci sono altri quattro consiglieri che stanno dando una mano a portare avanti questo progetto. Comunque contate di far avvicinare anche altri? Sì, 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 sicuramente adesso è una macchina che deve partire quindi cominceremo a partire noi e se questo ingranaggio comincia a girare bene sicuramente si avvicineranno anche altri personaggi.